Allora, come gestire un ex amante collega, ok? Quindi rispondere o ignorare ai messaggi, i suoi messaggi. Questo è quello di cui parliamo oggi e rispondo quindi a questa fantastica persona che ringrazio per la domanda. Allora, la domanda dice, una risposta come al prendere le distanze dall'amante collega che si è allontanato, mi hai consigliato un rapporto solo professionale e di dirigere tutte le mie attenzioni sociali ad altre persone, quindi ad altri ragazzi. Puoi cortesemente farmi qualche esempio, se mi scrivi in chat per esempio solo ciao come stai, come devo comportarmi per aumentare le chance che lui mi ricerchi? Io sicuramente non lo contatto per prima, solo per come si è comportato non merita. Grazie per la pazienza e la risposta. Allora, rispondo quindi a questa cosa. Rispondo per ignorare i messaggi di un ex amante, un ex collega, eccetera, sul posto di lavoro, quindi un ex amante sul posto di lavoro. Il punto è questo, io riservo sempre a chi vede quindi l'ex partner o l'ex amante in un contesto sociale o ovunque sia, quello che è un atteggiamento diciamo non di ignorare completamente ma di reset completo, cioè resettare a livello sociale come questa persona deve essere usata o comunque con la quale devi interagire nella tua vita. È semplice, io voglio interagire con questa persona come se fosse un altro collega come gli altri, ma meno di quegli altri, magari nuovo, quindi non lo conosco e non gli do l'attenzione non me ne frega niente, quindi lo lascio al suo posto. Questa è un po' l'idea. Se sono in un contesto sociale, siamo fra colleghi, io non riservo le attenzioni a lui, non parlo con lui, ma parlo con altri colleghi, parlo con l'altro collega davanti a lui, parlo con l'altro collega davanti a lui, parlo con l'altro ragazzo davanti a lui, parlo con l'altro ragazzo davanti a lui, a lui non gli parlo proprio, quindi non gli interagisco proprio. Se mi fa battute o mi parla, eccetera, gli rispondo in modo tranquillo, quindi dico ah sì, sai, ah sì, sì, ok, fantastico. E poi sposto l'attenzione su altri colleghi, quindi cerco di dargli risposte secche. Se dovesse mandarti un messaggio, qual è l'idea? L'idea è quella di ovviamente capire che se vuoi prendere le distanze e le vuoi mantenere, non vuoi fare rimandi al vedersi, quindi se lui ti chiede come stai, tu gli rispondi ovviamente in ritardo, quello che io consiglio è che se ti chiede come stai, rispondergli dopo un minuto e ti ha mandato il messaggio, non crea attrazione, quindi non lo porta a volerti ricercare. Se tu vuoi aumentare la chance di questo di ricerchi per chiederti come stai, gli devi rispondere dopo sei ore, dieci ore, il giorno dopo. E la risposta deve essere ma tutto alla grande, le cose vanno in modo fantastico. Stop. Oppure se vuoi aumentare la chance che la chat vada avanti, dici sempre che stai bene, quindi che le cose stanno andando bene e poi gli rispondi, dici tu invece come sta andando la tua giornata. Lui ti risponde, quando ti risponderà tutto bene bla bla bla, la tua risposta sarà ok fantastico, poi me lo spieghi meglio quando ci vediamo. Fantastico, poi mi racconti tutto quando ci vediamo. E chiudi la conversazione. Adesso devo scappare, intanto fai buon fine settimana. Adesso devo scappare, intanto fai buon weekend. Intanto devo scappare, adesso fai buon lavoro. Intanto devo scappare, adesso fai buona settimana, quello che sia. Buon proseguo. Perché questo? Perché non vuoi dargli accesso, quindi a un ex, quindi che sia un amante o un collega, non vuoi dargli accesso alla tua persona nel virtuale, ma vuoi dargli accesso alla tua persona quando voi poi vi vedete. E quindi devi fargli capire, poi me lo racconti quando ci vediamo, intanto buon fine settimana. Quindi dargli un rimando del, ah questa cosa, magari poi ne parliamo quando ci vediamo. Adesso devo scappare. E portare lui a chiedere di vederti. Ah ma quindi quando ci vediamo? Capito? Quindi è molto semplice, è una cosa abbastanza standard, non è complicata. Interagire con le altre persone significa che lui lo rimetti al suo posto, quindi non interagisci con lui, e interagisci soltanto ed esclusivamente quindi con altre persone che non sono lui. Questa è una cosa che puoi fare sia all'interno di un cerchio sociale con un ex, sia all'interno di un cerchio lavorativo, ovviamente quindi un collega. Fammi sapere se è tutto chiaro. Bene. Per chi vede il video, ricordo sempre attiva l'iscrizione al club riservato ad oggi, ad oggi. Noi ci sentiamo dopo.